Con questa plastichina fai una pallina, tipo il posto della pizza? Sì, metto qua? Sì, poi prendi il pomodoro e fai un'altra pallina. Ah, è facilissimo. Mettila sopra. Sopra questa? Ora la metti qua, e abbina la mangi. Al centro. Adesso schiacci tu, tu sei più brava. Ok. Poi, metti qua. In cui c'è lì? No, qua metti la mozzarella. Vedi? Ah, che bello, sì. Gira e scende la mozzarella. Ah, la paletta, che bella. Cioè, come viene in pizzeria. Adesso dobbiamo aspettare la cottura. La metti qua. Ok. Questa si chiude. Ok. Quindi facciamo anche consegne a domicilio? Sì. Ah, ok. E la doi al centro. Ok. Posso andare? Tutta pronta? Ok. Grazie.